in questo video non farò un vero e proprio unboxing nel senso che ho voluto fare una comparazione tra diversi tipi di fondelli che ho acquistato nel corso degli ultimi anni varia tipologia e varie categorie di costo già li vedete così tutti colorati ad esclusione di questo che è completamente nero vi faccio uno spoiler questo è della rafa andiamo con ordine questi due sono i più economici acquistati su amazon della lixada o di un'altra marca poi vi metterò qualche dettaglio in più allora sembrano ammortizzare bene in realtà non è proprio così nel senso che si usurano molto in fretta e quindi poi non garantiscono più quel minimo di comfort che ci si aspetterebbe sia questo che l'altro arancione non sono veri e propri fondelli da indossare autonomamente ma sono tipo boxer quindi hanno la gamba corte andrebbero indossati sotto o un altro pantaloncino ad esempio ne ho un paio della castelli che sono finissimi senza fondello in realtà ha soltanto un pad per ridurre l'usura e quindi si può indossare questo fondello al di sopra che è pratico se uno vuole cambiarli spesso ad esempio come facevo inizialmente spesso intendo magari ogni uno due giorni poi ho affinato altre tecniche tra cui magari lavarli in corsa insomma fare un po di trovare qualche soluzione alternativa questo è simile a quello che avete già visto in realtà questo arancione migliore come livello di ammortizzazione però è comunque sempre di qualità abbastanza bassa sempre tipologia boxer quindi gamba corta e da indossare sotto un altro modello da questi sono passato alla salopet perché in realtà con qualunque ciclista si parli e la salopet è rinunciabile serve a mantenere il fondello in posizione in realtà non è che la trovi particolarmente comoda io sarò un ciclista parvenu non sono nato con la bici sotto al sedere mi ci sono riciclato questo è un fondello dell'abrigo di fascia medio bassa comunque estivo quindi gamba corta la parte superiore con le bretelle è traspirante nonostante ciò comunque d'estate mi causa qualche irritazione anche perché io non faccio magari uscita di mezza giornata mi capita spesso di stare fuori per più giorni e una cosa del genere è per i miei gusti dell'eteria anche se più di qualcuno li utilizza ma sapete ognuno poi ha i propri gusti il pad è molto fino non ha grande potere ammortizzante rispetto a quest'altri è subito evidente questi hanno delle parti a rilievo questo invece è completamente piatto tra queste tipologie ovviamente perché tra il blu l'arancio e questo alla fine questo è il migliore per le mie ossa schiatiche poi ciascuno di voi saprà scegliere quello che va meglio in realtà non bisogna focalizzarsi troppo soltanto sul fondello bisogna pensare anche al posizionamento in sella allora proseguiamo dopo quelli ho acquistato gore bike wear questo è un fondello interno l'ho preso insieme ad un pantaloncino da mountain bike poi farò vedere anche quello in un altro video e questo nello specifico essendo interno venduto in abbinamento al pantaloncino anche dei passanti che servono a mantenere in posizione in realtà non servono per l'esperienza insomma questi della gore bike wear sono di buona qualità quindi l'elastico anche a distanza di molti anni lavaggio e chilometri italiane bene infatti poi farò vedere un resoconto di massima su quanti chilometri ho percorso utilizzando questi fondelli e questo tra l'altro anche molto consumato un po come questo della castelli garantisce sempre un discreto comfort questo è quello che prediligo cioè onestamente ho fatto veramente migliaia di chilometri nonostante sia di fascia medio bassa quindi per le uscite lunghe ma non per quelle lunghissime d'altronde ho trovato soltanto questi all'epoca e poi bisogna procedere un po per tentativi mi sono trovato bene e lo consiglierei il problema è che è uscito di produzione questi tra l'altro questi fondelli non sono di produzione core bike wear sono della elastic interface che è un'azienda italiana non particolarmente nota ma produce per grandi marchi quindi diciamo potete avere la fortuna di trovare un marchio che produce un fondello all'interno del quale è montato il pad della elastic interface e quindi insomma questo secondo me è una bella discriminante dopo questo ho deciso di fare altri tentativi per provare sempre pantaloncini che non avessero la salopette allora questo questo non è il massimo della comodità però vedendolo era comunque abbastanza simile a quello della core bike wear quindi tutto sommato non va male alla fine ultimamente l'ho utilizzato soltanto per fare indoor cycling dove comunque un'oretta insomma non è che serve chissà che questo è di una marca italiana anche questo l'avevo preso della bl un aneddoto l'ho preso al termine del dell'italy divide 2017 perché c'era c'era una fiera quindi l'ho presa questo non è male sia come fattura che come esistenza ecco proprio vi dicevo l'ho utilizzato poco non l'ho sfruttato appieno ho preferito molto di più di questi ne ho comprati mi sembra cinque o sei magari voglio descrivere un po più nel dettaglio evoluzione core bike wear la elastic interface qui si vede a malavene il logo comunque è questa ha realizzato un'altra tipologia di pad infatti vediamo che è simile ma non è identico questo dovrebbe essere più ammortizzante ma vi dico la verità non è all'altezza di questo per i miei gusti per il mio sedere non è non è all'altezza e poi un'altra cosa per i chilometri che ci faccio io praticamente usa getta nel senso che l'ho utilizzato per un evento e poi dopo ha cominciato a sfrangiarsi a perdere caratteristiche questo è quello un po più nuovo quell'altro la diventa già da non vale non è possibile utilizzarlo nemmeno come indoor sailing invece queste questi verdi questi li ho utilizzati continuano utilizzarli perché anche se si rovina poi la parte esterna questa qui in in mesh in tessuto in realtà il pad continua ancora finché reggono le cuciture non ci sono non ci sono problemi di sorta ecco una particolarità di questi della core bike wear che vanno indossati all'interno è che il pad ovviamente è identico anche ad altri modelli sia a salopette che a singolo pantaloncino ma hanno una parte molto traspirante però perché vanno utilizzati all'interno non so se riuscite a vedere adesso un po più è una parte tipo zanzariere in realtà è molto più fitta non è che si veda proprio non è una non è o se certo questo questo era un po più trasparente questo in realtà non molto però devo dire che d'estate sono comodissimi perché non offrono cioè non danno fastidio col caldo con le temperature alte quindi insomma diciamo era consigliato queste verde questi blu non molto quindi essendo rimasto soddisfatto di questi della gorra con il fondello elastic interface ho comprato un rafa in realtà non è che costino particolarmente di più rispetto ai gorra e ho deciso di prendere questo che è il cargo con la taschina laterale l'ho utilizzato solo in un'occasione diciamo un paio di giri lunghi però devo dire insomma non ho ancora potuto testarli appieno devo dire che il pad che sembra insomma di fattura rafa in base a quello che è poi stampato all'interno non è male ci vuole diciamo un po per rodarlo proprio perché è molto consistente però non avendo cuscinetti tipo questi separati mi ci trovo comunque bene insomma devo dire che non è male addirittura nelle istruzioni consigliano di arrotolarlo e di camminarci sopra per diciamo fargli fare un po di rodaggio quindi io quello devo dire non l'ho fatto però ecco infatti ecco qui questa c'è la descrizione un po più nel dettaglio ma insomma quando avrò testato per qualche chilometro in più vi saprò dire adesso che inverno comunque utilizzo dei fondelli che metto all'interno anche questi qui anche questi usati dell'elastic interface della core verde tanto all'interno di altri pantaloncini non si vede la parte posteriore diciamo qui nella parte del coccige dove si consuma giustamente molto più in fretta e quindi poi diventa anche quasi fastidioso per chi gira insieme a noi ok ok